quanta professionalità signori buonasera a tutti buonasera a tutti ovviamente non ci sta un cazzo di nessuno però comunque è sempre bello dirlo anche perché voi spettatore questa sera non lo so perché in genera allora io prima ad esempio facevo le live praticamente di mattina prestissimo c'erano le cinque le sedemmo sai quei periodi quando non dormivo la notte facevo quelle live notturne strapesanti e ovviamente siccome erano è notte tarde non ci stava comunque nessuno streamer pesante che magari si prendeva come dire visualizzazioni salve buonasera bravissimo chi è quel ragazzo in sottofondo che parla è davvero sexy gioca anche fra ma lo sai che sai anche c'è trovo dire sai che sai nel titolo vero per non ho capito saniamo nel titolo dai quindi ormai siamo 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 ai livelli di power io toby tutta questa gente tutto questo non nemmeno tolice io a gli amici amici no in realtà non stavo neanche piangendo in realtà stavo semplicemente dichiarando all'ultimo follower spillatrice adesso me l'ha rubato vabbè te l'ho rubato io appunto non va bene è giusto quindi ripetendo discorso facendo qualcosa che io in una settimana una settimana e mezzo ho fatto comunque 100 persone che non è poco cioè facendo persone che comunque ti seguono poi ovviamente ho smesso di strimare per un mese un mese e mezzo si svuotato pure il disco di un altro po direi che per questa partita andiamo a fare il culo vain bravo david che è bannato pike che voglio ma che siete pazzi vedo far venire un tubo alla mattina devo portare il voto per non sento cazzo no bannato della sua cazzo vabbè almeno almeno non te lo ritrovi conti no fra ma c'era quello che allora c'era quell'ia sulla che veramente comunque fra smurf a perché l'ottiglio ottenuto testa finché potevo dopo comunque arrivato un certo punto che lui scalava per via del farm quindi di conseguenza io ho perso molto no i merdinger botten io mi è top è top va dopo vabbè dai sai come si risolve il problema dello shop anche corretto risolve così giochiamo con ecco guarda come lo usa spio saigo colisce nemmeno mi ringrazia si streamer di oggi oh grazie devo per il follo grazie mille caro grazie grazie mille che si deve mister phantom dei questi però è se tu ci manco dato già un account perché dice che non è il mio ma infatti pure la spillatrice di voi io ho chiesto ma che cazzo è la spillatrice ma io sto prova io ho mandato la ho mandato il messaggio realmente aperto un ticket con quelli di di twitch per di io un spillatrice sono io giustamente non ti hanno inculato perché sono persone serie insomma io mi stavo anche incazzando perché vorrei averci il copyright sul nome spillatrice io sono preoccupato invece perché non so che cazzo fa a felios non l'ho mai visto a felios è complicato è complicato praticamente c'ha sei armi c'ha sei armi però non c'ha il tipico q w e cioè lui praticamente con la q switcha tra le armi può scegliere solamente da la prima arma e la seconda arma poi quando finisce le cariche della prima arma passa la seconda arma oppure può sbucciare nel mentre quando finisce le cariche di un'arma quell'arma viene sostituita con un'altra arma poi la w la sua mia voglia è no è difficile è complicato a felio adesso è complicato infatti infatti ragazzi ho poro festo io ti faccio vedere quello questo prendo io squilla e da proprio un fastidio quando lo che mi poro fessor si chiama poro fessor? e lo so sembra che sbagli quindi mi da fastidio per quello guarda me lo riapri grazie guarda guarda sto arrivando stai caldo non sono caldo è bronzo 4 è bronzo 4 ma che caccia che uno sta giallo è perchè io sono nell'ultima settimana ho fatto bronzo 2 che ho fatto 17 anche in totale proprio sono il tuo cazzo ah è imbarazzante vabbè poi ho deciso io che sono a livello 13 questo account quindi vabbè potete scappare in generale lo sappiamo sezione io pure il messaggio nel discord di di torish ah è vero ah perchè ah ma funziona ancora il bot incredibile ma siamo a livelli di professionalità dopo 2000 eh in teoria dovrebbe funzionare pure quello dei bot in teoria dovrebbe funzionare cioè quando carico un bot si si funziona pure quello vivi nel 5000 tu però poi mattino il nome witte spilltrige eh fucking tassi romanzo un po' dopo è giusto tanto vabbè la cosa bella di Twitch è che può modificare in corso il titolo vabbè vabbè un nuovo lupo mister phantom dave benvenuto nuovo lupo tondiato lupo a quanto pare vedi che amocacci le zanne guarda piano piano incominciare a cacciare le zanne dai che ti dico dave io in team vado la giungla sto convincendo lo spettatore a guardarci con calma una spettatrice in questo caso ciao elenia ecco bravo stavo messo a dire la stessa cosa e le miei concentri femminili sono levitate che cazzo volete ma dave dimmi perchè non fai un belissima perchè non rendi questo canale privato che sennò qua poi entrano tutti i cazzi mazzi quello lollo sai come è lollo no in realtà lollo lo sa quando sto in live perchè lollo mi segue lo sa cioè quando sto in live io non mi fiderai io una volta ho fatto un errore nella live di uno non sapendo eh ragazzi io c'ho pure ragazzi basta ho tolto i permessi a tutti tranne a colis allora ragazzi io ci avevo via villa eh che ti devo dire non start al blu fanculo allora che faccia mi piglio il suo blu allora io ci avevo pure il server io ci avevo pure il server io ci avevo pure il server infatti con pure la stanza già preparata per chi volevo che entrasse e chi non e no capi ha cominciato lux anch'io ho cominciato credi bello quando lux start a di e l'unica cosa che fa è lanciare e però se la lanci a dave la lanci male eh a me la lanci bene a lui no eh 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 anche gli autoattacca bene no no non mi ha preso con quell'autoattacca però con quella e si ovviamente madonna questi non sono quella tristana questi qua li sanno doggiare le bombe mi sa capare il 2 madonna mia sto a ziro come ha rottorile le pupole ho capito giochiamo sotto Thor no dave perchè gli hai dato quel colpa ma ma che vogliono avvicinarsi ma 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 che è quell'altro atari o se non sa farmare lo so che è l'altro sacco ogni volta che c'è il bg mi dimentico no ma c'è qualcuno ah kiana il jungler è molto è molto preoccupante quella lazza che mi stunna per mezz'ora è quello a tempo di farmi le combo del perché rm ok 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 è chiaro regalze abbiamo un fk no non fa niente oh ma che fino a fatti legna veramente ma non la sto sentendo proprio più manco la sera eh fra ma pure la sera e poi pure la sera e gli dico se non deve studiare che le fa male ma porchi trovi qualcuno faccia un vod in questa scena perchè è interessante questa discussione dopo gliela giro devi fare la clip non la posso fare io devi fare la tu che sei spettatore ma che capo so come si fa devi cliccare vedi sta il ciak sotto vedi sta un iconcino del ciak tutto fatto tu non ti preoccupare ha già fatto tutto così ma aspettate ragazzi chiamo un cinese oh è vero jackie jack aspetta no aspetta ma quello vabbè che bestemmia sti cazzi ma le bestemmie sono alla web si si no e le bestemmie sono bannabili no le bestemmie non sono bannabili no se no il masseo già sarebbe no no le bestemmie no non lo so no le bestemmie no rega io ospitato i peggio i peggio bestemmiatori no meno male che mi sono censurato io lasciate stare credo di aver compreso vabbè ma diciamo che comunque è un soprannome del tutto innocuo ok possiamo startare non c'è il cinese no fratmo vabbè oh qua c'è la creep dai allora ah in teoria adesso dovrebbe aver apportato pure una modifica che adesso sto streamando in 1080 x 60 fps fps eh no perchè comunque col vecchio computer quello che riuscivo a fare era il 720 x 30 invece con questo qua bene o male qualcosa in più pure che non è cambiata la scheda video e cioè riesco a vabbè perchè la streaming è tutto processore colis ma si vede tutto sommato pure bene sì sì innanzi sì ok tapos Non lo posso Sì, ma io ho appena avviato una parola su Big Stars, ma in mezzo a te Eh vabbè, ma non che ti spito Allora Penai mid Nooo Ma puoi incazzato nero Ok, madonna mia No, mamma mia però Io ne ho discutte cose, ma manco a fa' così Sì, ma che ti dico, io banno Samira Sta sulle palle proprio Non è carino Ah, mi piace che Phantom Day banna subito Pyke Non l'ho mai montata da quella partita con la schia I am in live Sorry Ecco codice che si sponsorizza Una cosa totalmente a caso, direi anzi Viamo il Twitch TV e facciamo così A POSTO Ma quante clip avete fatto, regà? Una Due, qua mi esce Boh, una io l'ho fatta Cazzo Ma il mio you will do that XD No, Fran, non spammo, mi sa cosa mi fa incazzare Lascia sta No, spammo io Madonna E' valido se lo faccio io Guarda, c'è uno spec in più adesso Loro sono famosi Si sentono forti No, come c'è? Ma come c'è? Ma come c'è? Ile 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 Mitica Mitica Ciao Ile Ciao Ile Ma che c'è? Ma che c'è? Un troll Pensavo fosse venuto uno di questi qua Invece E' arrivata Ile Pumale O è Ile che sta giocando con noi e non lo sappiamo Non penso Vabbè, sei Allora, sei anche stronzo, Colish Io te lo dico Chi non muore si rive... Eh, appunto Questo dovremmo dire Un attimo, ti sto facendo più sentire Bella mia Minchia per aver in casa Come va, come va Se non ti ando a studiare Palle Dio, Dio Mamma, dai Andiamo AHHHH Che? Che c'hai? La fai l'ultima noto, fai lato Ah Sappiate che non vi libererete di me così facilmente No, Ile, in realtà sei tu che stai disfannendo proprio Cioè, ci stai buttando proprio alla mercè Perché non ti vediamo da non so quanto tempo ormai Saranno una settimana quasi Anche se sono presente Anche se non sono presente, sono presente Ma non qui Colish? Colish in depressione perché non c'è Ile Ma almeno Ma almeno sentivo una voce femminile nella cuffia Almeno quello Perché sai com'è Sentire tutto il tempo a voce di Dave Che Oppure la tua Cioè, non è che E' chissà che cosa Due codici Hai qualcosa da dire sulla mia bellissima voce? Ti prego Dave, quel microfono ficcatelo per il culo, porca pottrana Guarda, ora come erano l'infilerai sopra il culo Ma ti butterei una di quelle scoreggie che ti fa vibrare il culo Stavo per dire una cosa bannabile nei confronti della comunità LGBTQ Allora Partiamo dal presupposto Io questi due ragazzi non li conosco Non li conosco E' arrivato pure Lollo Vai ragazza di sera proprio un macello stasera Vai Lollo Partiamo Partiamo Chiudi che sei scarso Vaffanculo Lollo stasera ludopatia time Ma perché fatti cash? E non all'antipiano guardi il mare Ormai Ormai Lollo ci ha abbandonato per far Per carica 30 euro ogni giorno Allora innanzitutto ti ha salutato Ha detto ciao Spilla col cuoricino Ha detto se tiri fuori i soldi Si Volentieri Si la farebbe Scusa 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 Spilla E non saluta me Ma tra i due non sono io quello ricco Quello è il punto Ragazzi ragazzi Lollo viene proposto a Trial Trial user Trial user Ah però mo mo che mi hai fatto in mente Io una cosa potrei fare Una cosa la potrei fare però volendo Potrei mettere quei Non studiare ti fa male Buona giocata ragazzi io torno al mio studio Ah io sono le 11 Basta io la abbassa veramente Esatto Ah mo stai esagerando Dai andiamo Warwick Lo so che lo vuoi fare Andiamo 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 Warwick che non invada è come la E come Ah è Warwick Ho già capito Ho già capito le tue intenzioni Possiamo andare a Warwick Gentilmente mi bannate Lollo 32 132 Che dà fastidio Tu il moderatore della tua chat Che vuoi da me Io Bravo Warwick Spilla ma se ti Se ti faccio moderatore della chat What Oh Gesù Oh Gesù Oh Gesù Oh Gesù ho filato Che arriva il flash di Rain Come sta anche bene Già mi sono preso tre stati Oh flash a bro Più tardi arrivo su discord Va bene Io ti aspettiamo a braccia aperte Ho tirato Ho tirato il cazzo addosso a Veil Dove 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 ho tirato il cazzo addosso a Veil Quanto vedi Ah cazzo Ma che cazzo è oh Cosa Che c'ho due di loro qui Eh dai Mi mancava a Gnarr che rompeva i coglioni Che segnar mid Mo sono andando sotto No no Prima stava pure Gnarr sa Ma andando sotto Ho trovato il discord Rollo Entra in un canale che ti sposto Per evitare Colici bannato da Twitch Ho privatizzato un canale E' certo che privatizzare una cosa in un discord palesemente comunista Lo so ma Io non sono di sinistra Io non c'ho religione Io non c'ho politica Io sono un uomo pulito Primo di qualsiasi vizio Primo di qualsiasi vizio Adesso la politica è un vizio La religione è un vizio Certo Ho capito E' dunque non ho la realtà Così faccio le bombo combo Ho capito che vuoi da me Se tu che sei lento Se tu che ti sei fatto menare Allora se sposti me Metti direttamente il banno Per me nel canale E allora Non ti sposto Già avevo rischiato tre bann Fino a ora Con me che mi dimentico Dove stame live Ti ho dovuto mettere su un secondo schermo E leggere le tue cose Per ricordarmi di non dire cazzate O di non mettere O di non mettere una certa canzone No 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 Ovviamente la canzone che vuole intendere il buon debut È una canzone per bambini che però Lui si vergogna del sole La canzone del sole Esatto Nero Oppure alba chiara Ragazzi con le canzoni Mi stai sulle palle proprio Lui Lui è bella Tu clicchi e vai a Fk Ma in realtà vedi che qualche Deve uscire fuori colpire l'avversario e tornare Madonna mia Non riesco a diventare la pronta bomba Mi sto citando Buonasera a tutti gli spettatori Ciao belli Mi stava in mezzo ai minion Così almeno ti faceva perdere il farm Ti faceva perdere il farm Capito? Sai che devi fare dave quando lancia la seconda bomba Lancialo leggermente più avanti Loro arretrano appena gli lanciavano Appena il fuzzo di pp Ma tu lo sai come prendi alcune di quelle cose di dragon Bro Ehi vedi di culo bro Guarda guarda Ha la cacca nella mia mutanda per la mia vicina Guarda Cazzo significa La cacca nella mia mutanda Eeeh broski 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 Ho sbagliato tutto Ho sbagliato tutto L'ho visto E non Non sono voluto Tornare Sono un coglione Io speravo di Speravo di aver triggerato con la line Mi sembrava dato il doppia auto attack No Speravo che gli tiri Prima che tonnellava troppo No Non è partito il bait Speravo che mi ingeggiasse visto che non c'eri tu Quanto avrebbe perso Ah Dave perché gli hai dato l'auto attack Eh però sono visto sotto Potremmo capire che mi dice Mi attacchi per favore Livella Ok Vabbè 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 Dove Evita di togliere 3 minion Lei lo preso Ma tu non l'hai presa? Sisi 80 gold Tocchiamo? Sisi No Vabbè Lora non ha beccato Lei già c'ha C'ha una roba E lui pure Quindi non buono Ah oddio è vero Non c'è un assetto tra la build di Lucian a caso Ancora va vero dovevo giocare Lucian Contro Pain non giocherò mai Lucian Vabbè first item che mi faccio Che mi faccio Mi faccio questo Ma non è che si ricorda il pesce d'aprile che hanno fatto per Draven Che tutti erano Draven con la testa di Draven in faccia Si me lo ricordo Fantastico Che ho messi lei c'ha Lei c'ha una wave in meno di me Buono 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 Io per poco ho il secondo La panel 6 si ingangia cattivi Blocca un attimo la line Beccolo Yumi con la bomba Yumi entro dentro Pain Perfetto R Io sloggo da qui vado ad onorare una persona che stimo molto che era negli anni 40-45 Oddio mio Oddio mio Oh è arrivato pure i voli Dici forse Edoardo De Filippo dai Perché me lo sta facendo nel programma su Rai 1 Dai quello dicevi vero Lollo? Ma sta lancia Ma perché me vanno per i cazzi loro le lancia? Che purtroppo è stato odiato da molti No Edoardo De Filippo non lo volevano bene Edoardo De Filippo non è vero No dai Oh ma c'è una ward qua No ma c'è mia ward almeno Io mi dissocio da quello che sta scrivendo Lollo Anzi consiglio ai moderatori che ci sono di bannarlo immediatamente E tu il moderator della tua vita E Lollo il moderator della tua chat Lollo si automodera da solito Oh no Ione Dai ma perché me la lancio a cazzo di cane ora Se te lo vizio tra i men Manca un mod Tini No un mod ce l'ho Se ce sta bene perché se non ce sta stiga Oh no 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 Non è una ulti sto giro Eh no vabbè lo so Vabbè io mi son fatto lei Eh si vabbè Era bruttissima è ward Mandare vain a fk così per me è bruttissimo No che remissata Oh TP TP No Zig mi ha fatto rimbalza in aria Vedi che ce la puoi farci Perché non ci ha creduto fino in fondo Orchitroi Te possi non ho frase mi dave più una mano Ne uscivamo tutti quanti vincenti Ma perché scusa Fra ma tu Fra ma tu sei full Ok Non contrognare Boli Se mi vuoi mi paghi Per moderare un canale così No hard in realtà Ci sono state anche delle proposte In passato Di fare il modello A me arriva Di là ma la botta venti la ferma Io Normale Sei dei Zilean Quello è il tuo scopo C'è un warwick dietro Vai Oh volibir Arrivo pure io Vabbè ci arriverò mai in tempo Scusate Non avevo capito L'intenzione Ma colisci è venuto rubare minion No rega Ho riuscito qua Per darvi una mano Pensando che magari Finisci i frasi Mannaggia a te Ha chiesto loro Se a te far ridere Questa cosa del moderatore A me far ridere cosa? La cosa del moderatore La cosa del moderatore? Mhm Che Già Già Modero la La chat Di uno dei caster Di Rainbow Six Penso che sia Suficiente per me No Diceva semplicemente Se faceva ridere La mia proposta Era tutt'altro che seria Ciao Yumi No Ho guardato tutto Ho guardato pure la Non hai ultato? Perché non hai ultato? Non c'è il mana Ma fra Spera di avercappata Ho capito Non c'ho il mana Che ti devo dire Io ti faccio Il di engage Degni Ho capito Guarda quanto Guarda quanto manaccio Fatti un po' i cazzi tua Dovevo andare a casa allora Che posso dirti? Ho capito Andiamo a casa Ti vuol dire Ho 3.000 di gold spend Sarebbe anche l'ora Di andare a casa Vabbè Nel frattempo Warwick ha fatto già Sono proprio grave Easy game Finisci canaccio Il sopra Che cosa? Prima ha detto a me Fa ridere E si è fermato Finisci il canaccio Il sopra Non ho capito Oh e chi cazzo Se lo ricorda Mamma mia Che cazzo Ne so io Che cosa stavo dicendo No 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 Senza scarpe Io viaggio nella mia vita Capito? Povere piedi Io ho sempre piedi Non so che lo compro Comunque Ho visto Se c'è spilla Di gioco da support Devi sto canale Mi dà questo canale Mi sporca il pc No no Spilla Quando vuoi ludopatare Ti mando Yap Perché hai scontato Che vi soldi a te Per fare il ludopatico No Così No Visto che mi dimentico Di domattivi Urla Amico Di domattivi Si deve scappare Perché ho lo sciuraria Qua sono spariti tutti ragazzi Io vado Mi faccio un giro di ward Ma Vai C'è la pink Ma manco per il cazzo Non avevo soldi Manco per caccare Proprio Vabbè E allora la pink Ci piazza qui Ho capito Che bello Ok No Quella mente L'hai mandata L'hai mandata L'hai mandata Naturalmente AFK Con quel colpo E' quello che fa driver Ma quanto è stupida Yumi Madonna Ma la devo comprare No Ormai l'hanno N'erfato un sacco Yumi Sanno Ma non mi vale molto La pena A giocarlo Ormai Più che altro Vuoi mangiare una pizza Vuoi giocare Allo stesso tempo Allol Yumi perfetto Sì perché alla fine Yumi A meno che non stai dentro Qualcuno Seva Saga Dentro così No in realtà Allora in realtà Perché piaceva Alla mia ex Yumi Allora in realtà Yumi Può fare qualcosa Anche al di fuori Del corpo Di una persona In pratica Il suo Per applicare Scudo E guadagnare mana Deve colpire un avversario Così che può mettere Lo scudo All'alleato Che poi dopo Se la prende Sì ma tu letteralmente Fai entra ed esci Da uno Ah quello sì Ragazzi 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 Sta diventando molto ambico Questo discorso Entra Ed esce Questa si chiama Yumi Lei deve Lei deve hit Per forza Vedi perché lei Se hitta me Non mi toglie una sega Mi fa letteralmente Più danno un minion Ma quel muro E chi Don't fire Ma finisce a finire la torre Così Oh ciao Oh quel flash Andiamo Andiamo Stai fatta la cacca Adosso Vabbè Sì non me puoi perdere il carretto così però Eh vabbè Si è uscita ogni tanto Anche più forte Vabbè vado mid Orca troia non vado manco per il cazzo mid No fra ma sono a borgia mid Lascio stare Davali Come stai Ti spiace il fatto di qua No vero Si Ah vabbè non ti dispiace Tutto questo deve lanciarmi un boomerang È pronto a diventare ciccione Sta attento Si vabbè Se ne va su Ione Mica deve andare su di me Per forza Ma andiamo su di te Mi hanno lanciato quattro spell Non me ne ha preso Vabbè Stai tinto a livella Aia Lo so Lo so Lo so Volevo provare a prenderlo Vabbè Abbiamo due torri Non sai che scolli c'è passato in mezzo Mentre io ti ho cliccato l'aria addosso Si vabbè Non è che mi preoccupava tanto Vain Non mi avrebbe mai menato mai Mai proprio Mai Lo so Però lo stesso Se ci dovevi morire Mi sarei tiltato come una bestia Vabbè Oh ma io devo finire le scarpe Pronto? 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 succedendo il cazzo da zix non è che ho preso il cazzo da zix broschi semplicemente lui è stato tutto il tempo sotto torre io non potevo fare letteralmente un cazzo verso il concetto ogni volta che è venuto il jungler stica me lo so preso in culo a poi giustamente me lo scommere indicato c'era il top lineare pure caga il cazzo però dimenticato ma noi l'abbiamo rotta la torre botte no e cazzo ci lascio ancora togliere il botte no se c'è un buono so vabbè tieni livello davanti nemici c'è qualcuno qua sono nemici no no però se rischio di morire si ultami perché c'ho 700 di taglia io ti porra ti porra ti porra ok quanto pare non c'è dirà più vabbè io ho letto ma se io ho letto ma c'è però che io ne ho pazzo sgravo siamo anche beccare ragazzi ma devo perché? perché ti sei suicidato? ho beccato nel modo di beccare qua non lo sapete? io mi vado a fare una grande magnata di giungla mi vado a fare fatemi due secondi bisogno dei gold o bisogno? io vado a fare questo bellissimo red di warwick ti dispiace warwick? no vero? probabilmente no perché sono io che ti cardio io lo so a fare i danni mica tu la fai collish? no capito ci ho lanciato pure l'ulti e devo far più di così io ce l'ho detto un po' ad arrivare no dai andiamo in mid noi andiamo in mid No, no, la doppia bomba L'ho usato per arrivare insieme a te quella Perché trovi che danni che mi fa Vabbè, ti... Ti appiano tutti colpiti la torre Oh, oh, oh Ma quello quando è arrivato? Vabbè, l'ho sconato per 5 minuti Vabbè, niente Non posso fare un cazzo Coli, ce la smetti di fidare Azzurro, a finale Vabbè Cioè io so quello che si sta trovando Siamo in situazione di merda Quanto ti manca per i 14? No, un sacco Ho livellato mo io, bro Livello War, livello Warwick Ok Ok Baron Bastardo mi ha fatto perdere un ascio A questo punto lo stiamo bullizzando, vero? Vediamo che succede a Vayne con la mia ulti Ma quando ti danno quando torno l'inviato? No, non cambia il danno Cioè no, in realtà cambia le German Vediamo che succede a Vayne con un mio colpo Ah Vediamo che cazzo è morto Ah Ma ti lo dite? Ma ti lo dite? Sono morto È finita la ultima che potevo fare qualcosa Porccato, sto facendo la mia streak senza morire E niente Prima o poi si deve morire Come dice il mio caro amico Luca Laurenti Le veline? No Si deve morire Ricordati che devi morire E niente Si finisce 14-1 questa partita Porccato Dove finirla 15-0 C'è un'altra partita Gigi Ero 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 Imbarazzante quello che si dice Sì, ti devi indovinare che preso S&P mi ha dato la cesta Eh sì, ho preso S&P ovviamente Aspetta che mi impiene una bella stupetta Ah, vabbè, spero, non c'è rispettiamo la partita Una bella stufetta? Eh sì, sento Ma io ho messo un po' di pane Ma non ti ho capito che cassa mangiare Dove è anche sfogliare questo nuovo vestito? Allora No, ho i canestrelle, tutto a posto No, ma è che le strane mi intrecciano allo schermo Dai, dai andiamo a che riusciamo a fare riusciamo a fare vorrei capire perchè il nostro jungler? ma alzarmit ecco shen potrebbe essere un problema ma che? solo poi chi si è fatta? no shen è bello tankoso vedi non so sai che dico? un addicare che non gioco mai mettiamo quale addicare che posso prendere io provo il chaser cassa di nuovo no io ero mai in kathleen una volta quando karibaldi faccia la comunione quando kathleen non faceva schifo al cazzo in realtà mo l'hanno pure reworkato da quello che so quando kathleen non aveva 200 di mobility bene bello avarci contro blitzcrank ho bisogno di mobility ho bisogno di mobility ho bisogno di mobility bye bye buona tata buona tata ciao 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 sono tornato ciao spillato come stai tutto bene? ciao caro che mi racconti? e anche stasera si dorme sul divano perchè? è super comodo ma che c'è ma il dischino bro si porchi troi ciao 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 capito dai non è che mi fa sentito qui guardi ciao 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 ehi che hai detto se è capito io non lo stasso se mi vengono le coliche domani ti sta a posto noo è schifo fra noo domani io puoi dare un po' di cazzo noo c'è noo noo è buono è buono è buono noo è buono è buono fila mhm? quanto pari lo stasso a portare meglio lì eh vabbè capitano non e il loro viego è gold 2 wow bene un pirla di midliner contro un mhm un midliner discrito perchè gold è tutto il loro midliner è il romanzo 4 ah tu hai detto midliner era gold tu hai detto Viego è bard ah Viego un bel il romanzo il romanzo il romanzo il romanzo il romanzo è un bel madonna hanno un team troppo tancoso nooo con la bomba di merda di zini potrei perdere un minion grazie per essere tancato al posto hai rotto il cazzo domani blitzcrank posso iniziare a stundarli? vabbè come hai di dirvi? come hai di dirvi? come hai di dirvi? come hai di dirvi? una ilp grazie per il follow caro grazie mille come stai? non c'è bisogno di gg della spara oh thanks man thank you thank you so much for follow guarda che una volta ho giocato tutto il tempo con una ragazza francese no 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 c'è la love c'è la love no 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 ma infatti si si nel senso che faccio i post polemici sono un altro tipo di guerra oh e fatti un attimo i cazzi tua no ma è proprio stupido quel blitzcrank no ma è proprio stupido quel blitzcrank si la metti di fartelo dare nel culo capito la Q di Miss Fortune non è che deve mirare per farla basta col tutto che tocca il mio champ quella roba dovrebbe essere uno skishop non so quanto Kane Kane scusa e io che vuoi che ti dico che ho la wave qua davanti vuoi che mi calcio con la wave qua davanti tu vuoi yellare? oh shit torno da guardare fila vuoi fare la cazzata? no no non mi ha capito il quale la cazzata e domani blitzcrank back back andiamo back back io dai non avevo il motivo non c'è niente con il quale se mi dispendi mi grabba quella lui mi stocca quali siamo? oh 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 guarda 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 chi si ha m'è che foot da madonna mia kane 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 what are you doing doveva anche aspettarselo considerando la ultimision oh e rt il porto non c'è il mio studio, l'ho sempre detto bisogna vedere un po' come Ash ora un po' dopo che danno le work up qui la vuoi giocare la pinca la pinca la metti, io non ho work ah si ora che ho comprato una pinca mi sono suonato il centro il raggio non sai che stai guardando e cacchia è una pinca perla beh è successo l'altra volta come è successo anche a me odio 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 domani blitz è piaciuto il trollino? hai visto i momenti in cui ha premuto fuso la tastiera? si si ci abbiamo mi sta facendo un attimo i cazzi ha finito Giorgio ora sta tenendo che è? non fa questa cosa quello che hai visto? lui diventa invisibile Diego guardate un attimo la cazza no? vai a prendere il tasto bello qui la qui la togliere stavo per iniziare a cacare bomba che è finito il minion se lo fai ti picchio bello il minion vero? mi grabbi mi grabbi mi grabbi mi grabbi non mi grabba ha grabbato il minion bro lo dopo ma si ma io non so se lo dovrà grabbare da là sotto eh livella no no perché no? no no dicevo al carattolo torre di mare no che è stato anno ha noi avevo che in un altro no 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 Vabbè forfala vai è qui non c'è manco venuto specializzati non c'è manco penso avessi la ultima si ma ero stato nocappato non ho avuto il tempo di fa niente per questo ti ho dato real penso che questo provvivesse vabbè vorrei regolare non sei molto male vorrei finire se fa non ho buona idea spilla no che no regalano anche il di vantaggio le regalano per ora è finita ah ma non manco scelai tu la ultima no non so spregare molte forze pubbliche ero già sicuro di essere fuori range se mi gravavano mi iniziavo male ok buongiorno non è possibile che quando mi gnocappa io non posso fare niente ma niente significa niente bella quella pubbliche io con l'exter faccio vedere ma al quinto grab avevo iniziato a capire come funzionavano ma porchi troi madonna madonna mia madonna mia si ma rega ma n'è possibile cioè questo mi ganka sempre no 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 madonna mia ciao ciao io non mi muovo da qua lo sai vero ah ma dove sei andato no vabbè io ho fatto guarda no no ma no 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 io sto quasi vai vai bello fa 0 a 8 ragazzi capisco tutto però morì manca a pago gi ehi poi arrivo e dopo che arrivi con blitzkang davanti non riuscirò mai a far salire la bomba in testa ok ok non è di certo il jungle adatto a questa team in composition eh vabbè dai qualcun altro oh mi mancano tutto mi manca solo la bot mi manca solo quella mi manca a forza mi sento più contento adesso ah zitto cammina a botta da un olore ah cioè incredibile oh rega mi sta a me mi stanno a ganga cani e porci mi stanno a ganga mi cidiale io sto facendo cacare sta arrivando viego sti eh scusa un attimo per i cazzini eh permetti viego no eh non permette è diventato è diventato luce viego come è diventato luce ti ruba una volta le cammette ho sbagliato però va bene eh vabbè vuole voltare cane per farlo girare e fargliela mettere in culo a viego evo alto premuto in quel momento vabbè ci rinuncio basta non gioco manco manco mai più cassa di me sono rotto al cazzo io mid lane non ci ho mai giocato e mi rompo nei coglioni è incredibile prossima partita ne vado a mid lane no 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 madonna mia so cattivi spilla guardati manco prossimo a ranked? si ah beh abbiamo un team che è leggermente immerazzante due kill sono mia e uno è di game poi per il resto non ci sono killing due notte in botte perdono soli perché ha detto che è scarsi in mille no raga io mi ripeto io non ho mai giocato cioè io gioco solamente questo account qua del livello 10 quindi immaginate quante esperienze ho vabbè vabbè mamma di nuovo ennesima volta ci sta sempre qualcuno affianco a questo bassi mi sono rotta il cazzo che cioè regali mi sono rotta il cazzo cioè non è possibile c'è cinque partite cinque assist cioè cinque morti cinque assist ho dato pure 5 oltre alle cinque morte anche cinque assist ho dato c'è incredibile quando non ti basta fidare ma ridare anche i gasti fila dimmi no no il fatto che sono bling stranco eh ho capito tutto quats bass i gasti non lo c'è no ma mai pepe 320 regamo è persa ci prendiamo in giro messo solo a stizzato che veramente perché sto fa troppo schifo sto fa gg 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 io non lo direi no in ogni caso sempre pace amore no perché sennò dovrei cambiare account non ti preoccupa stai 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 no 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 fai tranquillo no frasi dovrei cambiare l'account e non ce l'ho esame cioè dovrei cambiare account comunque perché questo non è il mino capito preoccupava tranquillo gioca gioco tanto noi qui giochiamo per divertirci io sono io che mi incazzo con me stesso perché non so capace dimmi qualunque cosa riferita c'è capito è cosa volevi dire non lo dire invece non lo dire evitiamo vabbè non è così ma perché io assino non so come si gioca non ho mai provato era la prima volta veramente o il first time in assoluto nemmeno con me non ci ho giocato no forse una volta colmeni ci ho giocato però una volta aia aia prova prova ok risolto pure un problema risolto un gran problema ma in chat siamo rimasti solamente penso noi due forse no no davo non c'è perché siete in due come dice quindi vuol dire il bot della della chat che conta sempre uno spettatore è un altro certo io ci sono mannaggia boh rega forse non so aggiornare perché comunque c'è sto fatto che non so in real time ciao ma chi è questo ragazzo bellissimo che par che parla e gioca lucian è sapessi spillatrice sapessi lo conosci bene però lo conosci bene diciamo penso che lo conosce da 22 anni però forse non ti ricordi di lui c'è 22 anni con quella persona sono tanti amica solo poi che caso due spicci che amici amici si 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 allora cosa vuoi ziliane si si tu ti vuoi perché non so che addiccio che addicci hai che addiccio che addiccio arancino aspetta se vuoi abbannare pipe ci pensi tu a bannare pipe si si asiccate in drive and jinx cari sali sport un simile cristana così quasi mi lascia una partita di ascia giocare nautilus ascia rega no ma io non c'ho a dire no niente scherzo no ma fai è free come è? ah no è free hai detto ashe? sai quale sarà la parte bella di giovedì Dave? in quella riunione io prima sarò bloccato con ESL fino alle 7 e mezza di sera e poi verrò a fare la riunione no invece io partirò con i minori signori i combattenti eh sì 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 io ti ho indicato scusate Dave ti voglio dire una cosa importante mi servirà di tappa alla riunione ti serve led staff? deve esserci si caccia no ma anche una cosa spilla e ti mi pare che tu prendi tutti quanti io vi troppo è data base andata a fare il lavoro c'è di merda aspe a aspe a ho capito aspe vai regà ho mutato la live no vabbè non lo so se dovete dire qualcosa regà l'ho mutata ok l'ho rimesso tutto a breve news ragazzi io l'ho detto che volevo mettere nel tag però vabbè ma poi tra l'altro quello che stavo pensando no siccome a questo punto volevo mettere pure a fianco al logo del lupo ce l'ho mettere proprio di cosa lo potrei mettere pure nel tab lo potrei mettere pure nel tab lo potrei mettere oh avete capito lo posso mettere pure nel tab volendo vuoi mettere tutto dove cazzo ti pare posso brandizzare il canale volendo vuoi persino disegnare un pisello e schiacciarlo lì vabbè dove la domenica di permissivo fu io lo fu io l'ho foto l'ho detto poi no ma certo no sulla mia no fra sulla meppe fra ma sulla mia peccato francia assenza in arte poi in che senso no è un peccato perché un pezzo d'arte non può essere così sprecato ci vuole tipo la tua di testa quella sicuro la luce lucsi ben giusto sai quale era quale poi o vado main band and one of the player names has been banned c'è un piccolo problema dai quale che abbiamo gli sporti un lux ma mamma mia poporre netto anche singe pop singe di player speed più teleport questi genitor approcci farmare in maniera stupida devo aprirmi una bida dall'altra parte ancora si usa il prossimo non abbiamo delle attra iardi non andalo come comincia finché comincia di cui va dietro va dietro è la lei in avversaria è l'estero è lì tutta la partita ho uscito l'ho la lola a rica che c'è una fanbid rega anche questo ci stanno invadendo ho visto una world qui c'è una world ok se ne sono andati se ne sono andate se ne sono andate come cazzo si apriva il nome dei ping avanzato oggi g e trascini no squillo g e trascino mi appare quella normale qual è quella avanzata scusa c'è ping avanzato mi ricordo c'è uno che diceva visione ma io penso di sì penso che qualche pippata l'ha fatto secondo me di farina di farina ma di farina o che c'è sa di male no no di fari farina farina farid fari come fa no quella è nelle vene ero fui e fui stato e non funziona e niente vabbè ma abbiamo e sei accio non hai bisogno di skill tu ma serio cioè la passiva tua è la cosa più forte che c'è eh lo so però c'ho contro Lux e mi sportio non è che è tanto bella la situa tranquillo consigliando che adesso eh infatti consigliando adesso mi sportio un po' cussa solo me ok paura guarda ok paura abbiamo stato un po' splittati dai perché sennò Lux batte tutte e due con quella di merda mamma mia è vero che la può lasciare quanto cazzo vuole ah te sei dimenticato praticamente è un roadblock che palle vabbè pilla pilla tu sei pronto vero mi sento il cervello pilla accendi il cervello perché io sono pronto pronto per farti spulnare? ah si tanto oh Dave la smacchio aspetta che lo tolgo direttamente va guarda guarda sta sta stronza mi ha lanciato mi ha lanciato la Q solo per farmi perdere il carretto va a chi ha fatto più danno lei o io? qui la ciao mi è andato aspetta un attimo eh lei si è beccata a 12 hit dai minion no dai vaffanculo Dave c'era la bomba terra c'era la bomba terra non è per la kill su Lux è per la Q di ah 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 mi hai imbanzato addosso vaffanculo Dave vattene a fare in culo vaffanculo Dave beh vabbè non piangere no death e invece c'ho 13 milioni in manovista sozza che non si lava tranquillo ho una kill dire un pull up every moment il forte è una probabilmente regolata madonna mia ma che tumore è la Ax si è a livella invece di lamentare la Lux va da Warwick ah no ti vado a guardare e poi giro per stunnare la Ax no Dave sei solo mi ho stunnato Lux non volevo mica ingaggiare ah ma davo a faffanculo cazzo mi fattellavano no è un giro per stunnare la Ax non un giro per ingaggiare le mie istruzioni sono chiare e veloci non lo so tono senza scappa ho riuscito a doggiare quella cosa perfettamente eh io non ho capito con cosa t'ha visto no ci sarà qualche world la viena sopra so che prende il reghetto che drago abbiamo preso montagna montagna vai 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 pussa 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 ah beh però Warwick manca a fare così io ho dato tutto eh no che pussy sto Zed mamma mia che pussy eh non ce la faccio devo aspettare un paio di item mi sa che io è meglio che me ne vado però io devo aspettare un paio di danni e il 6 ma io me ne devo andare ciao spilla ma hai un po' il cazzo che ti pare tanto Lux è morta Ash che Miss Fortune deve regolare io ho recuperato un po' il gap dei minion con Miss Fortune una kill ah una kill non ti sei preso perché Warwick è un double greedy ho dato due assi boing no perché? per quale motivo? il sistema di targettiki generatori è molto strano ma si vuole di far tittare è un biscottino a regalatemi no vero? no da quando i biscottini ti posso regalare? mi chiamano da 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 rompere la pink mi sto tittando non rompono proprio un cazzo rompiti la ward devi da levare il cazzo spussi di merda mi spussi ok ciao Kain ti ho fatto la passeggiata? ma quanto è dietro? non so se tu l'hai visto spilla non è giusto che ti lasciamo qua il jungle ok perché c'è il lux è sicuro? si ah no ho beccato? non è il giro che ha fatto per beccare madonna sto schifo posso spilla guarda non tu mi sfortuno così solo perché mi sto sul cazzo mi fa farmare con con ascio si vede? no si warwick capisco io il tuo zelo la tua voglia ma è ho la decimotto posso venire domani no perché non ti sei ultato? sono al 5 ancora come sei al 5? ma perché sei sempre un livello dietro di me? perché io ti favo al livello ho capito ma manca a far così però sei due livelli dietro di me è imbarazzante perché ha te ti power livello frat si ok singhead però cazzo la wave è che te gli rompe i coglioni mo oh che palle la wave intera mi ha mandato ho bevuto oh Gesù ti ho bevuto ti ho bevuto tu come sei messo a danni fai male benino no no li faccio tanto male più o meno si che beccate questo tipo che lo sciotti sciolto no sciottano assolutamente è morto sì no invece vai te lo fai te lo fai te lo fai no too late bro a meno manco attirato la r lol per questo non ho fatto tantità io bravissimo bravo se non muori baci in faccia gli avversari e fattori ben bravo bernardo è forte forte brutto fortissimo ma lo sanno lo sanno cioè lo dico sempre devo capito io lo schifo sempre tu dietro a pigliartelo al posto mio ho capito che già in crisi non lo via spilla lo piglio io buttare no ma preso devo darti perché devo portarmi io tra poco no 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 non ti preoccupa fai gridi guarda quella zoccola guarda guarda ti danni piglia guarda guarda ti danni piglia guarda ti danni con tia piglia io mi sto dando spi ciao tanto ma arriva ti danni a perdere contro sta miss fortune perché se non perdere perché siamo morti io si una volta oh le ex gaiti vette ottimo è bro ti sono bevuti col cazzo che mi si avvicino io la arrivi a darci ne vado o in quattro spille non so perché anche solo stai pensando di rimanere la ma 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 no incazzato nero no no behe 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 oh porco giuda ma come cazzo è sopravvissuto con il tuo ha capito non è morto è morto sì ok ma ero del culo che non l'ho ammazzato io vabbè ma ti pare che l'ho arrivato a scappare abbiamo preso la showdown che ha detto così come mi ero del culo che ti abbia voltato quando io quando io l'avevo bevuto con la mia ultima è la ma sopra che man che man che man molto più che meno tutto questo ancora demora torriato per ora mi sa che hanno beccato in boxe c'è da essere orca troia mi sporti non è troppo avanti a me con il partner ma quasi 20 milioni in più ma come ha fatto da avere 20 milioni in più quasi 21 milioni in più c'è no comunque zetti non so veramente come c'è guarda l'altra volta mamma c'è un motivo se azzetta ferma barnauto oggi colis dopo il gioco zetto è deciso dopo il gioco zetto non lo scivizio capi di early game ci ucci lo direllato? no early game non hai non è un cazzo non è un cazzo si non c'hai danno non c'hai modo di fare spell perchè appena fai una spell già hai finito tutta la roba la carica dai dai così allora non abbiamo capito noi vero? sono male scusa mi stanno affendo io 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 si vabbè cristo dio però sta cazzo di furrotta me lo so ho due kill e quattro assist me lo sto passando quasi meglio di te Poi 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 Grazie. 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 Molto strano. Molto, molto strano direi. Molto, molto strano. Grazie. Smilla mi ha dato il great with zilean. non lo so Rick non ci credo vabbè dai ti bannomi sport io mi senti stato così tanto sul cazzo madonna mi sta troppo sul cazzo del champion prima che mi rimbata di nuovo addosso a best ami ma voi ce l'avete il prime? no se ti metti l'account su prime può avere tipo riot point gratis addirittura 650 più una schema 650 sono tipo 6 euro di rp? si ma te lo danno ogni mese in totale arrivi a 7000 riot point 50 euro di riot point più una skin 4-5 campioni e 2 faccio dai due turni forse oh l'ho fatta Dave spilla però bonofensor dice che sei un kathleen casual è un office al maestro questa ma che cazzo vuole fare in italiano dice kathleen nabbo spilla perché Ash ha piccato Ash che viene conterato da kathleen? che cazzo mi tolgo il jeans ma è che ancora il jeans non è da dire no 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 hai bestemmiato bro 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 hai fatto bannare bro che cosa che ha detto? aspetta ho perso i miei pensieri no ma tu non bestemmia bro ah beh bestemmi ne vuol dire quante ne vuole no bro spilla ma tutto apposta la droga è potente in te hai voglia immaginavo la potenza volevo dire scusa mi non ho sbagliato mi sai quanto mi vorrei fare un porco dio pipotto di farina purissima baladolivia oh la farina oh quella di farro oh quella di farro è pesante quella di farro da quello che so no kamut 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 no quella di kamut si quella per la pizza è ottima proprio dalla Colombia come Pablo Escobar no no si chiama quello che me la dà è si chiama Paolo Emiliano ahhh si chiama Paolo Emiliano e viene dalla gavira ragazzi io ho un problema cioè nei tanti quindi identifichiamo quale dei tanti a parte quello chi cazzo è Lilla che cazzo fa Lilla è un cavalluccio è un support è un support è un jungler beh non abbiamo grapes no che cazzo abbiamo hash veigar hash grapes abbiamo hash veigar in bot lei non aspetta si si possiamo bestemmiare i bozzi possiamo bestemmiare in bot l'indale possiamo proprio urlare in bot lane con veigar che rompe il cazzo che cazzo ha quella roba ah è della live di Dave mi son cagato la live mia cosa ho detto ma io non ce l'ho Pono Fessor perché mi spinta sta merda ma che vuole madonna mia madonna mia abbiamo un main grace contro mi sto preoccupando che bozzi che bozzi eh assai fra io non ho mai giocato mid questo stavamo dicendo tutta la sera io non ho mai giocato mid allora bello bello tutte le partite che abbiamo giocato no la colli si ha preso il cazzo vero vero devo essere onesto io mi sto divertendo a fare il support di spilla anche se odio a fare il support normalmente vabbè di il perché ti piace fare il support mio perché praticamente quando faccio una cosa mi segue già questo per me vale tantissimo no perché io so giocare di care oh mio dio che scomodo oh dio voglio girarmi al contrario per giocare ma poi al contrario mi tilta a me mi dà fastidio a tutti dà fastidio no ma a me non mi ha non mi ha dato fastidio mi stai dicendo ora sta cosa che cazzo no vabbè ma peggio per lì ecco ha già cominciato il signor vega beh ma vega non fanno la cu eh si farm se ti colpisce con le abilità in ogni caso li stacca in ogni caso si ma non quanto ne potrebbe formare i mind quello si potresti anche non incazzarti chi è che si è incazzato ok ok no abbiamo visto Ash che andava proprio dritta sparata pazzo umanoide è salita sulla mia bomba ti è presa il cazzo ti è presa pure la coda come minimo si è presa 300 danni occhi e croce dave l'hai capito dov'è Ash è qua no è qua quindi eh non c'ha una cu chiede che è quella l'unico te azzini almeno fallo ma è già morta bro 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 vabbè è morta posso mancomincio a vicino imbarazzante io ho detto io mi butto se funziona funziona che becca mi sembra un po' imbarazzante dai dai almeno l'hai riuscita a scrivare la mia coda tirata in faccia tu livella capito manca a fa così però ho detto tu livella l'obiettivo di graves è solo uscire sotto a torre ciambella 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 bombetta torre 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 e mi sa che sarà divertente stanno prendendo una base di cocco sotto vabbè ma si chiama l'ulule troll ma adesso ma adesso la w di di catherine ha una durata limitata ma che è no sì da sempre no Sono io che non gioco da troppo La mia caitlin non c'aveva Così come non aveva Madonna mi sono andato in Ultra Instinct Sono andato, era arrivata pure lì Così come non aveva la Q così lenta nel castarla Devo fare qualcosa No VEGAR non mi pushare Ti prego Sono da solo in lane Allora lì lì sta trollando Devo aspettare un altro po' Credo che stiano trollando tutti lì Da dove stiano a troll game Dave che è di cominciare a guardare? Spilla Ma io mi sto divertendo a premere Q Ho capito bro Ma a posto? Ma a posto Attenzione a Griffith dietro Però io me ne devo andare perché tanto ne c'è schiatto Sì sì vai vai Ci vedo Abbiamo Abbiamo VEGAR AP Carry Ehm Vabbè Abbiamo VEGAR AP Carry E' dash support A sto punto evidentemente Ma che Ma non gli altri se li stai a pigliare Eh sì ho capito però Sì ma non mi puoi vincere Minion così ti ho detto Oh non sto missando un cazzo Faccia di merda Hai missato un cazzo Hai missato un cazzo Penso io ho mai visto entrare qua dentro Aspetta che c'ho C'è il colpo caricato Io lo vorrei sparare in bocca A VEGAR Se è possibile Con calma Fala di finale Eh 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 Vabbè Ash Buongiorno No c'è Lidia E dai Sì si è cagato Grace Non poteva più niente Ho preferito Ma scappare a te Ciao Izzy Oh no Izzy Siamo censurati qua dentro Mi raccomando C'è il scolici live Ah c'è Izzy Ciao Izzy Ciao Izzy Ciao Ah perché io ce l'avendo la cosa streamer non sento quando entrano Ah vedi che non c'è la cosa streamer perché non ti spunta No eh ma lo sai che pure io me la voglio mettere cosa di triangolo che non ci riesco Basta che fai su impostazioni discord e ci c'è la cosa di Aspetta lo dico subito Cazzarola per quanto non è morto No ma quella attiva infatti Si vuole faccio vedere Perché non ti si vede che sei in live Madonna venga stai proprio mangiato bevuto Sta trollando Che sta facendo No ti faccio vedere E dopo ti faccio vedere Forse magari tu sei fa Perché a me non me esce più Cioè mi esce che la barra è pure in alto Mi dice Sembra da streamer Se vuoi disattiva Però non Però mi fa uscire il triangolo Ecco Ecco Vai ecco 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 Ah si è avuto la ulti Ah dobbè ecco Cazzato nero Eh carmelo Ah si è avuto la ulti Ah ma proprio Ash si sta buildando da support Si si Ah quindi non stavo trollando io quando dicevo Ash support Vabbè in realtà In realtà è forte Ma che stai facendo Che stai facendo Che stai facendo No E' là Di far crescere il mio item Così non le devo più Un castore col trinker Però con questi due Mi è vero un po' difficile Farmi Igi Grazie per il follo Aspetta Chi sa fai cazzi Sua Da grande Devo essere come di ma che firla che sei Eh non sei i coglioni lei Che coglione Sì a livella ti regalo il sei dai non piace Fammi l'autografo per favore Vai Pov sei sei un mio fan Gli ziscevo Senza di Eib Oh madonna Io me ne vado Io me ne vado Capito bro C'è proprio rincoglionito tu Guarda abbiamo bustato colish 5 spec Direttamente colish Ma chi è che Ma chi è che su Ma sti 5 chi so scusa Uno so io 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 Ammaffarato quadretto Uno tolic Apposto tutto ragazzi Ti conti total No io non mi guardo da sola È il bot al massimo E il bot risulta come spettatore Sì 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 Metti la fraccetta sui cosi Ti scontro i nomi Dove Sto su obs io però eh Anche su obs dovrebbe esserci Si è attivato quella specie di minicad Sì a 5 spettatori La 1 e 48 Questa qua dici Forse spostando il click Il mouse sui cosi degli Aspetta Dovrebbero scontare i nomi No posso nascondere rispetto No non mi esce Non riesce No Magari dopo Nel mentre che mi trovo Maffancazzo Dopo quando al tabi si vede Black screen Sì 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 Lo so lo so Dovessi streamare Detta un'altra finestra del gioco Così non ti succede più Eh ma lo sai che io c'ho questo difetto Che non me la fa streamare Cioè qualsiasi gioco io metto Non ho Cioè tipo individua la finestra No? Dice pure la vedo Però poi fa vedere il black Far vedere Non so perché Mi sa che devi Mettere la mano Vai vai push Vai vai push Eh ma infatti Ma devo vedere come risolvere sto fatto Una volta mi usciteva anche me Dovete mettere direttamente Dove era Posizionato il file Nooo A me sta bene Tanto faccio così Mi vuoi bene No Bello questo tipo di Fortnite però È che cazzo È che cazzo È che cazzo È che cazzo Uno e mezza È il Un coco me lo posso permettere Sì Sì Non hai minion però Hai ragione È che cazzo È che cazzo È che cazzo Stai dicendo È che cazzo Bru Mi sta guardando Mi sta guardando Mi vedete che va in giro Ah cazzo non c'ho la Q Porchi troi Buona e mello gg Che fa Col vaga Le vede le mie le mie trappole Non ci interessano Hai paura Devo farti scappare No no Stavo aspettando che finisse Finisse quel cerchio Non mi fa più danno Se mi mi stono Vabbè Mi ha un wild Tu guarda Collish Che sul groppa la torre Vabbè No 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 ma aspetta Ecco dai E qua ecco Dai Collish Uno vuolo Ti aspetto Ma perché tu giochi al lollo fra? No Lo vuoi No Manca fa così Vabbè Sì hai attaccato la torre Inbidio le plate Sì scusa C'ha le plate Ma Inbidiamo la torre Ho capito appunto C'ha le plate Gold gratis Con la torre fatta con la plate Il cazzo che mi Perché ho tipo l'ignite addosso Chi cazzo è stato? Liandri di Icos Oddio 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 Aiuto Chi No Io l'ho visto Io potevo ultarmi Ho detto Dai Non mi farà mai 180 HP di danno No No Vengo bot guys Tanto Porchi Troi Il nuovo lupo Lo Oh ma dai Ma che stai scherzando? Madonna cattiva? Sotto torre Ma davvero dici Sotto torre? Ma davvero dici? Sì sì Buono Tanto Stato Partita è particolare L'ho visto poco fa No Si Sai che è giusto La Sciurelia Su cui c'è un cambio Sì, su di me sì, ma è nato come secondo item, cercavo qualcosa di troll. Può andare a P, che non è troll alla fine. Per me il troll è a T. In quel caso dice ok. Mi fa... mi fa quasi schifo uccidere Ash, mi dà meno di un carretto. Buona, buona. Questa tu, Gigi? Sì, c'è... Ho dimenticato a cambiare il trinket, porco Gigi. Ah, non è fatto il blu sui champion con l'energy, ho visto? Sì, sì, prima ti dava il do. Ma? Io non ho capito che cazzo voleva, Spilla, ma lo spieghi. Lascialo con il minion, dai. Sì, ci sto provando. Vabbè, vabbè, c'è. Ok, io c'ho pure questo. Questo. Vabbè, questo è bello, riuscire a fare le combo così. Pensi che proviamo a andarci davvero? Lei, lei se lo può permettere. Figlia, sono qua vicino a te con l'ulti, sto giro non se lo può permettere. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Bro, ma... Barzante. Se lo sono permessi. Lo sono permessi perché ne hanno stunnato il tempo che io provavo a voltare... Lillia è morta, ritardata, Lillia. Non sono arrivata da suattaccarla. Porco lì. Doppia? Easy? Sì. Mamma mia, la mobilità che c'è qua imbarazzante. No, fuori indietro, cambia il trinker. Si piglia parole da solo lui. Ah, ti rubo la rana! Dammi Michele! Voglio Michele! Michele! Misteri? Ma si, Rossi, si, zi. Ma non male che nessuno ha capito la mia battuta, spero. Non c'è un trattore. Perché non si possono schinnare i mob su sto gioco, se no facevo la mod della rana che è sul trattore? Ma, parella! Ma c'è davvero bisogno di flashback? Cosa cazzo vai, zocco? Che cazzo sta chiss? Ma porca puttana. Mamma mia, che fa. Ah, spero, riesco a prendere. Dai, vabbè, abita, 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 abita. Eh, lo so, lo so, l'ho capito, però che cazzo? Eh, però, bucchina di tutte cose, ci sono dodici line in cui puoi andare, perché devi venire a romper il cazzo a me? Mi sto passando il tempo. Ma il vegar pur di non far morire il suo, la sua Ashe che sta a 08, ci flash in bocca. Imbarazzante, bro. Io ho visto che il vegar che mi ha tirato, ha tirato tutto il tuo personetto. No, 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 il vegar muore. G1 è ma, immenso, immenso me lo. Go, go. Ragazzi, stiamo arrivando? Sì. Hanno due HP comunque. No, penso che lo due ne callano, non sono così. Buona, per me è una minchiata sta cosa all'etar. Oh, cazzo. L'ho preso per sbaglio. Oddio, l'ho fatto il drago. Toccole. Pilla, ci ha andato il cazzo troppo sì? Eh, che dobbiamo qua? Stiamo avuti là. Poi ho la Ashe. Comunque, inizi, da grande vuoi essere come me, mangia tanta frutta, ricordati di questo. Io bevo tanto acqua, vale lo stesso? La devi berli, fai succhi di frutta, mi dispiace. Facci fai succhi di frutta con l'acqua. Non so se funge. Penso di sì, penso che funge, penso che funge. Pilla, ho pensato che era abbastanza inutile starmi. Vado a farmi una spremuta di acqua. Vai, vai. Da dove la spremi? Dall'Etna? Da là. Ah, easy. Quanta terrai vicino casa? Troppo. E io che sto a San Giovanni, che devo dire? Tu dovresti avere direttamente le pietre. Praticamente sì, ho la macchina ricoperta. Ecco, non usare le spalle. Ah, è vero che oggi sta facendo... Sì, lo so. Domani devo andare a lavorare pure, perché il Cristo là sopra ha deciso di darci questa gioia di lavorare. Addirittura, credi in Gesù Cristo così tanto da dire che è lui che sta lavorando. Eh sì. Dove? Allora, Colish, muta l'audio. Non mi dico secondi. No, è, continui. Scrivilo in chat, scrivilo in chat. No, no, tutto a posto, tutto a posto. Non ti ti accorgo di niente, tutto a posto così. Tutto che sono tutti da coa, aia. Quindi è proprio scopato. Ed era un po' complicato. Beh, ce l'hanno con me in sto game, non lo so perché. Ce l'hanno proprio con me in sto game. Non sono palesemente io il problema, ma ce l'hanno con me. Melo, sei davvero davvero da Ashe? Eh, glielo levo dalle palle così Bush. Capito, scala. Capito, scala. C'ha nove morti. Melo farba invece che picchi a Ashe. Lasciala stare, lasciala stare. Vai, Melo, vai, Melo. No, devo prenderlo con questa cosa. Lasciatela stare, Ashe. Ragà, non ho fatto niente. Ci fatti i suoi. Stai cillando. Stai giocando un gioco tutto suo. Oh no. Ciao. Ma te ne vai? Sì, sì, ma... Ma guarda, guarda, spilla, guarda. Spilla, il cazzo duro ce l'hai? Uh, per poco. C'è lì, da poi, eh? No, allora me ne vado se c'è lì. Due palle, quella ha un po' custato solo me. Sto morto. Invece no, vai che era un po' giore. Ho vissuto che con quelle due copie? Madonna mia. Stavo impazzendo. Ho guardato tutto. Sto visto un po' confuso. Sì, ma io non capisco... Allora, allora, io non capisco una cosa, no? La combo l'ho fatta bene. Ho fatto la R, la W, la Q. Cioè, ho messo bene tutto quanto. Perché non sono scoppiati? Io quello non capisco. Nooo. Malo. Oi. Che fai? La vai a levare quella... Deve a levare quei minion dalla bot lane? Gli sono i super minion dalla bot lane. Li fai lì... Fatti un attimo i cazzi tu. Come cazzo io... A rendermi sciaco. Coglione. Il mio regalo. No, no, giovedì. Nooo. Pesante. Questa era pesante. Ma perché mi ho ultato? Ma chi? Ascia. Oh, ma l'hai uccisa? No. Ah, ma allora... Ascia sta. Parma, tu parma ti minion. Non toccare. Tanto lei non te le fa. danno. Sì, ma ne ho ultato. Ho capito. Ma bene, sta buildando AP. Si sta buildando per far danno soltanto di R, praticamente. No, Dave. Dave. Ma perché? Ti da due di gold. Ma perché devi romperla i coglioni? Lo uccido io a Dave. Dave, c'è lei. Dave, proprio no. No, mi ha dato 112 di gold. No, eh, 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 eh. Eh, eh, beh, uscire. Ma perché è morto il tempo che impieghi per ucciderla? Guardi, è che poi arriva il team e giustamente ci incazza, è la Hawaii purei. E ci muore pure... Ciao, bello. Questa cosa però di mortale, andiamo a faccela. Niente. Le mie ultimi finisco sempre con la giusta. Doveva essere un 19.0 e mi ha ruttato Faker. Beh, vedi cari, hai ruttato lo cazzo però che ce l'hai solo con me. Sì, comunque... Ma sai cazzo? Gli abbiamo bullizzato la Waipu, come dici te. Sì, ho capito. Però con me... Sei tu che gliela stai bullizzando? Io non la sto minimamente cagando. No, mi ha dato 100 gold. Ma vaffanculo, ma lasciala stare. C'ha un item. Perché ha brutto build on? Ha venduto gli item poco fa quella niente. Ma io la cazzo, ne so. Però la builder sta facendo giusta, eh. Dai. Però c'è support, sì. Ha comprato 2.000 cose, oddio. Non vedevo le... Cazzo. Non vedevo l'executioner calling da almeno 7 season. Perché? Lo usano sempre in questo sito. Eh sì, questo sito non l'ho giocato. No, ma calcola che è sempre usato sto coso. E ora? Nessuno ancora ha notato quella cosa che ho pensato con la fontana. Dave, non approfondiamo forse. Forse è il caso. Non lo so, cosiddetto nel caso mi dissocio, prendo le distanze. Non ho capito neanche quello che cazzo hai detto. No, no, quello che ho piazzato nella fontana, ho detto. Ah? Ma la te la fai un culo, Dave. Vedi? Sì, ma... Perché? Filla, sei scazzo per filire. Capito? Tu premi un tasto e hai finito. E poi... Oddio, Cazzo, che stai facendo? Fermate. No. No. Cos'è quello? Oh, ma quanto fa male. Gì, che palle. Eh, che palle che sei, Veykar. Tu coglioni. Ma sai che mi ha tenuto là per mezz'ora? Spilla. Veykar può far pingere la game. Vabbè. Comunque, regà, Gangplank non si legge. Conflank? Ragazzi, secondo me la stiamo trovando un po', eh. Eh. Sì? Porca misera, ma a me lo scioglie. Madonna mia. Manca io lo faccio tutti. E' quello che fa, ecco. Porca misera. Oh, in tre secondi se le ha fatte tutte e tre, come stavano? Funzionava così quel esempio di Beth? Sì, soprattutto ragazzi, il bello è anche a 23-2. Allora. Anche io la proprio vista le mie kill. Io ci tengo a essere, a fare le cose giuste. Vabbè, mi devo fare un item di Magic Defense, ho capito. Mi devo fare la Bansi, così vai che ha la per me in culo, ho capito. Andate che sono lì che stanno regolando. Giochiamo sporco. E' la zocca, eh? Sì, eh, vabbè, figurati. Madonna mia, però, ragazzi, che cazzo è vega? Vabbè, 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 vabbè. Ah, ma nel frattempo che lo dovremmo affaitare me, un po' stavano andando? Sto ricordando perché ho smesso di giocare League of Legends nella mia vita. Perché la bot lane è... No, perché la bot lane è diventata una cosa stupida. In bot lane non si giocano più a D-Car. No, 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 perché in tutte le partite che mi faccio, in tre quarti delle partite che mi faccio, giocano tutto tranne che a D-Car. Minchia. Non ci do a bollizzare il loro DC, cioè il loro support. Mi sa sul cazzo lì. Minchia sul cazzo ho il cavallo ciamarino anche a me. Però fammi un beati. Fermà. Collis. Dimmi, caro. Ma se ti dico, buono! Tu che dici? Bannato. Eh, no, no, nel senso, cioè... Ehm... 666 di moment speed è bannabile? No. Ah, io sono ballabile per il trato forte. Aspetta che le porto un attimo colisco. Per che cosa vuoi? Il motivo non si trova sempre. Quello è vero. Quando vogliono ti spezzano le gambe. No, ho commis cliccato. Anche perché io ho del piccolo cappello. Non ho dato video. Fra, io non ce ne ho capezzoli, fra. Esatto, è appunto. E cos'è detto col trone i capezzoli? No, Bruno, non ce ne ho capezzoli. Ciao, mi ora! Ma te l'hai accato tappa? Sì, la vieni qua, sì, la vieni qua. Sì, adesso per i maschi è possibile mostrare i capezzoli. Tipo fa... Pallo l'ha fatto. Infatti è stato il tuo modo che l'hai visto su Twitch. Ma va, fanculo. Tanto da non ci faccio con le bombe. Anche troppo, se no... Eh, c'è Vagari in quel bush. Chi cazzo la mamma vicino. Prima volta lo faccio da solo con il genone, ecco. Tu livello a 16. Ok. Ma il gameplank cosa ha fatto per fare quel male? Eh, no, è la spell. È la spell dei barili. No, dovevi dire il mano prima, dai. Eh, no, è la pentola che ci morivi. Ho detto prima che ci crepa davvero. Dovete andare back a difendere mid. Sì, dovete andare back a difendere mid. Cazzo, e' merda, vaffanculo. Vabbè, ma come mezzogliamo? Abbo. Ma dooo... Inchiappettato. Lei? Lei non può solo. Ma posto. Sono morto. Ma dooo... Comunque gli... Mamma mia, fortissimo gli... Pazza, proprio. Come stai, Poggi? Male, bro. Me la so... Male, male, so, proprio male. Me lo vai. Sono a pezzi. Pezzi, allora. Io non capisco perché mi deve fare danni per sette ore dopo che sono scappato. Guarda, guarda me lo. Tic, 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 tic. Sono morto. Sì, sì. Sì, ma ragazza, partito la chiudiamo, mo' non la chiuderemo mai più, ma so. Cioè, dobbiamo vedere di fare qualche obiettivo, qualche bar, un qualcosa. Sennò... Ma l'abbiamo fatto. Eh. Va, dai. Che merda di champ, Veycar, proprio no sense. Fa una spell e ti sciotta. Eh, non le pezzo al culo, o mai. Non vedo. Colish! Che ho fatto? Non ti fa. Tra stava a pushare quella scostumata. Ma è una mascotte! Ah, rica, ma stava a pushare, ma siete pazzi, quella cosa ci ho avuto da terra. Ma è la mascotte, ma è un minion, bro. Ho capito. Tu ammassi un minion solo? Sì. Se mi dà 100 gold è ggwp. È un carretto. y'e' da 100. Ma non è un... tantissimo. guardate 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 ragazzi ma l'ho difficile muore modifici muore io mi ultro non avete capito finita quel drago io in casa mi ultro l'idea c'è la palesemente con ma dai sono morto no zombie picchia 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 ma come sono zombie ma non mi erai vivato today ma come io pensavo che si revivato tu io ero convinto no io ero convinto palese che dovessi essere animato dai però devi vederlo come se ne va bellissimo sento nemmeno accorgerti che aveva tipo 13 mila di moment vinto un pagliazzo dai cosa che cazzo che c'entro io non sto fan cazzo non sto ma è il pubblico cinque spettatori siete voi praticamente che cazzo di entrattenere sempre pubblico va bene ma porca miseria non posso bestemmiare no porca misera non posso bestemmiare fra morti di morti ma chi devo mordere morti di orecchie butto gli pazienti addosso buonasera a tutti quelli che stanno in vocale con me giusto dirlo questo questo è giusto da dire buonasera buonasera salutiamo la chat di twitch ciao allora saluto spigatrice saluto izzi saluto dave saluto melo grazie per i 50 bit ma magari grazie per la gif grazie per la 10 gif ragazzi fammi capire abbiamo tieni i coi mi sembri che vuoi dicio ma lì cazzo ma che il lateno zombie e l'ho capito non sono arrivato al tattino e abba tanto non mi lascio domanda un bel cario grazie per il suo buone con lì grazie si va addormentato porchi troi non mi fa dire che dave invece di dimanna la ulti sud non aveva voglia di criticare non so se cazzo di melo non so se stessa non so se stessa ma che bastardo che sei mamma mia non so se stessa non so se stessa non so se stessa e questo è un problema this is a fucking problem almeno tanto considerando che non hanno più venga questo caso si ammazza questo melo ti hai la ulti addotto melo vai di venta melo finito andiamo a finire madre sul bit finito io ti ho puntato sperando che ci riuscivi eh ma aspetta eh ma aspetta comunque non gli invito ora aspetta ma si rialza questo eh ma tanto sempre dopo non lo puoi buttare giù il nexus Dement porca miseria avete un minuto e trenta per farlo quando cazzo letto perchè ci ho portato a no ok ah beh ma se vuoi citati io non lo so no so scherzo so scherzo anche se è sbroccato onestamente oddio abbiamo vinto ragazzi grazie per le sub ormai lui fa il mio doppiatura io muoverò la buca e i pezzi guarderà al posto mio ragazzi adesso tu farei il mio doppiatura e farai guardate alla fine come ci hanno recuperato va benissimo tu basta che muovi il labiale ci penso che resta amico mio raga devo andare a giocare con un amico mio ci sentiamo domani a sto punto va bene? 72 mila d'anni ciao ragazzi eh no un amico con il compagno di duo devo andare a fa' ci dobbiamo andare ad allenare ciao raga se voi mi faccio due tft di quelle valore ciao ciao